Vaccinare l'Africa contro il coronavirus è partita la campagna del QAM dal titolo Un vaccino per noi che la ONG definisce l'unica risposta possibile davanti a un'emergenza globale. È stato definito il nuovo apartheid vaccinale. I paesi più ricchi, tra cui il nostro, bene dico, non è che non sia contento, stanno raggiungendo il 70% della copertura vaccinale. Ma quant'è in Africa? Un miliardo e 300 milioni di persone. 4% la media, con paesi come quelli dove lavoriamo noi, su Sudana, Repubblica Centrale Africana, dello 0,3-0,1% di copertura vaccinale. L'Africa fatica ad accedere ai vaccini, ma non solo. Che quando i vaccini arrivano in Africa bisogna trasformare i vaccini in vaccinazione, che significa un grande sfida logistica, trasporti per portarli fuori dalle capitali, agli ospedali regionali, distrettuali, fino alle piccole cliniche rurali, dove c'è la gente dell'ultimo meglio. Poi c'è il problema della catena di refrigerazione, impossibile, Pfizer lunare, meno 70 gradi, impossibile, perché occorre energia, non c'è in Africa. Non ci sono gli operatori sanitari che abbiamo visto qui in Italia che si sono presi cura di noi. Bisogna formare dei laici, cos'è una vaccinazione, come vaccinare, che cosa registrare per non vaccinare più volte la stessa persona. E così via. Una grande sfida pratica. Lì il CUA vuole assicurarsi che il vaccino arrivi all'ultimo miglio, specie alle mamme, ai bambini e agli operatori sanitari. Un obiettivo etico di equità e giustizia, un obiettivo pratico per questa campagna? La nostra sicurezza, cioè il fatto che non ci siano più varianti, è legata anche alla sicurezza della popolazione africana. E quindi questa è la grande lezione di questa epidemia. È veramente globale il mondo in cui viviamo e deve essere globale anche la risposta della solidarietà. Tutte le informazioni per sostenere la campagna sul sito mediciconlafrica.org. Il CUAM si pone l'obiettivo di vaccinare 20.000 persone, sostenendo i piani nazionali di paesi tra i più poveri del continente, come il Sud Sudan. Questi piani sono coerenti e strettamente legati ai piani nazionali vaccinali dei paesi dove lavoriamo. Questo in concretezza. Chi è se vaccinato pensi anche agli altri e gli ha un contributo per quello che può.